ciao a tutti siete pronti per una settimana di nuovi episodi di un posto al sole io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà perché abbiamo tante cose in ballo interessanti andiamo intanto a leggere che cosa dicono le anticipazioni che riguardano l'episodio che andranno da lunedì 7 ottobre 2024 nunzio e rossella si trovano a condividere un timido momento romantico abbiamo visto nella puntata di venerdì che c'è stata una discussione fra rossella perché lui difendeva le regioni di diana rossella è andato a chiedere spiegazioni del suo comportamento e lui ha trattato male poi dopo è andata a casa di silvia dove c'è la rossella per chiedere scusa e lì è scattato qualcosa i due si sono baciati vediamo un attimo come andrà avanti la questione tra i due personaggi sono molto curiosa di sapere salsa proverà in più modi a convincere mariella a voltare pagina allo stesso tempo un amico si confiderà con lei interrogandosi su ciò che desidera veramente finalmente torna il nostro salsa sono molto contenta vediamo un attimo che consiglierà a mariella e spero che insomma ci sia qualche evoluzione sulla sua storia con castrese perché sono personaggi che mi piacciono insieme vediamo un attimo cosa succederà peggiori tanto i comportamenti del piccolo jimmy che faranno sorgere qualche dubbio nel suo amico camillo il ragazzino che si sente come sfruttato dall'amico da poco ritrovato vediamo un attimo che cosa succederà tra i due ragazzini sono curioso di vedere anche questa vicenda secondo voi cosa succederà cosa vorreste che accada scrivetelo nei commenti mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube ls la vera squadra anche perché abbiamo tantissimo il contenuto su un posto al sole ma anche su tanti altri argomenti e poi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti da marina da jena del canale youtube ls la vera squadra buona puntata a tutti quanti